. Uomini e donne Gossip, critiche per Sara Affifella, interviene Nicola. Gossip Uomini e donne, Sara Affifella sommersa dalle critiche, a difenderla ci pensa Nicola Panico. . Nicola Panico dice la sua sulla scelta di Sara Affifella di salite sul trono di uomini e donne. La coppia di Temptation Island ha chiuso la sua storia qualche settimana fa. . Questa situazione ha portato non poche polemiche in giro per il web. . Tra le tante persone che hanno criticato la decisione di Sara, vi è anche selvaggia Roma. . Non sappiamo se Nicola si riferisca proprio a lei, ma nelle ultime ore ha scritto qualche parola di incoraggiamento per la sua ex fidanzata. . Il panico ha dimostrato di essere un grande sostenitore di Sara. Desiree Maldira ha anche lei apprezzato la scelta della Affifella di partecipare al programma di Maria De Filippi. . Le ex tentatrice si è detta sicura che Nicola abbia compreso la decisione di Sara, lasciandola libera di prendere le sue decisioni. . . Il panico non sembra per nulla arrabbiato. . . . Anzi, Nicola ci tiene anche a difenderla dalle dure accuse che stanno circolando sul web. . . Il panico ha deciso di prendere le difese di Sara. . Ma prima di ogni cosa ci tiene a ringraziare tutti i suoi fan. . . Innanzitutto vorrei ringraziarvi tutti per i b e i messaggi che mi avete mandato in privato. . Mi ha fatto molto piacere la vicinanza di tutti. Ed ecco che il panico apre il discorso riguardanti le critiche ricevute da Sara nelle ultime ore. . . Volevo precisare, però, un paio di cose. . Mi ha dato un po' fastidio vedere qualche aspirante tronista, più di una, scrivere cose contro Sara. . Nicola non si tira indietro e manda una frecciatina a chi accusa la affifella. . Non è che vi rode un po' che Sara è andata sul trono e voi no? Quello a cui dovrebbe rodere penso sono solo io, il sottoscritto. . Sara affifella arriva a uomini e donne, l'inaspettata reazione di Nicola panico. . Sara, nonostante tutto, sarà la fortuna di qualsiasi altro uomo. . Per me, come amica e come fidanzata, rimarrà sempre la persona migliore che ho conosciuto in tutta la mia vita. È così che Nicola conclude il suo discorso sulla decisione di Sara di salire sul trono. . La affifella è la nuova tronista di uomini e donne e il panico spende delle bellissime parole nei suoi confronti. .